Oltre all'interfaccia utente standard, Visualize dispone di una semplice interfaccia utente chiamata Modalità Facile. La Modalità Facile è stata progettata per ridurre l'interfaccia a una semplice procedura guidata, tramite l'uso di 5 icone situate nella parte inferiore della finestra. La Modalità Facile consente di passare rapidamente da un progetto vuoto a un'immagine renderizzata, pur continuando a produrre immagini di alta qualità. Per iniziare, apro un nuovo progetto in Visualize. Si può accedere alla Modalità Facile dal menu Vista, facendo clic su questa voce. Ed è anche possibile premere la barra spaziatrice per passare dalla Modalità Facile alla Modalità Normale e viceversa. Vediamo che l'interfaccia standard è rimpiazzata da 5 icone nella parte inferiore. Le icone sono numerate da 1 a 5, in modo da iniziare il lavoro da sinistra e procedere verso destra. Inizio facendo clic sulla prima icona, Importa. Per default viene aperta una finestra di Windows Explorer che rimanda a questo percorso di Visualize. Tuttavia, da qui si possono cercare i propri file in qualsiasi percorso. Il modello che sto per importare è stato creato in Solidworks e vediamo un attimo come si presenta questo modello aperto in Solidworks. Quindi, importo questo assieme in Visualize. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa impostazioni, della quale parlerò in dettaglio più avanti. Lascio invariate le impostazioni di default e faccio clic su OK per caricare il modello. Per accedere alla barra principale degli strumenti, basta spostare il puntatore in alto nella finestra e se si vuole che venga sempre mostrata, basta fare clic sulla puntina in alto a destra. Qui si può accedere agli stessi strumenti visti nella lezione precedente, ma per ora mi limito a ingrandire la vista usando la combinazione Tasto maiuscole più pressione della rotellina e trascinamento del mouse. Quindi faccio clic sull'icona numero 2, Vernice, per aprire una mini versione della scheda Aspetti della tavolozza. E qui vediamo gli aspetti attualmente applicati di default al modello. Si può usare la libreria Cloud per vedere ancora più opzioni, ma per questo modello utilizzo la libreria locale. Apro la cartella Metallo e trascino l'aspetto titanio sulle gambe del tavolino. Poi apro la cartella Legno e trascino l'aspetto Cedro sulla base del tavolo o American Oak oppure Dark Glossy. Apro ancora la cartella Metallo e trascino l'aspetto Cromo sul cucchiaino. Apro la cartella Paint e trascino l'aspetto Arancione sulla tazzina. Commuto su Aspetti del progetto e vediamo gli aspetti che sono applicati oltre agli aspetti che non sono più applicati. Ora chiudo la finestra di dialogo e per ora salvo il progetto. Nella prossima lezione completerò il progetto usando le tre ultime opzioni.